Signor Preside, come è nata questa vicenda che sta coinvolgendo Genova e Chiavari, ma anche il nostro introterra? Parliamo del liceo linguistico che avrebbe dovuto essere sistemato qui presso il suo istituto. Allora, durante quest'estate sono stato contattato dalla città metropolitana che appunto mi chiedeva disponibilità ad aprire un nuovo indirizzo nell'ambito del liceo linguistico di Chiavari, nell'istituto Nostro Memoria. Invito al quale lei ha risposto? Al quale ho risposto con entusiasmo e positivamente tenuto conto dell'esperienza che ho presso l'istituto Montale che dirigo a Genova, titolare, dove ho otto corsi di liceo linguistico. I docenti si sono subito mossi e attivati perché erano entusiasti di affrontare questo percorso in sinergia con gli stessi docenti del Montale. Quindi lei predispone un Open Day dove dà un'offerta che riguarda anche il liceo linguistico, oltre ai geometri e ai ragionieri, con le varie articolazioni. Con quali risultati? Direi ottimi risultati perché non solo i tecnici hanno tenuto, ma si sono incrementati, sia al Montale che qui. Durante l'Open Day lei cosa registra come iscrizione in questo senso? Allora, in particolare l'offerta formativa è stata data con la terza opzione della terza lingua nel corso dei ragionieri non tradizionale, quello RIM, relazioni internazionali e marketing. Un 22-24 famiglie si sono orientati direttamente su questa opzione con tre lingue a partire dalla classe prima e col potenziamento della lingua inglese. E per quanto riguarda il liceo linguistico? Per quanto riguarda il liceo linguistico ovviamente io qui non ho avuto iscrizioni, ne ho avute una classe intera, una trentina di persone sul Montale, la cui provenienza, ahimè, o per fortuna, qui dipende dai punti di vista, è addirittura Moneglia, Sestre Levante. Quindi parliamo del Tiguglio in generale con il relativo Entroterra? Entroterra. Lei raccoglie queste iscrizioni e invece il liceo? Ah beh, il liceo poi con delibera del dicembre scorso è stato dato non al Memoria ma al liceo Davigo, quindi con la succursale eventuale del liceo Davigo in Chiavari. E qui inizia il balletto degli spazi e delle aule. Le aule se io ho dato la disponibilità c'erano e ci sono, il problema è dove sono le aule, nel senso che non è che c'è un'ala dedicata al liceo e magari ad un'altra scuola, perché le aule sono magari dislocate in plessi diversi, due plessi, uno via Castagnola, uno via Millo, sono dislocate in piani diversi, fermo restando le aule speciali con i laboratori e quindi è più difficile trovare gli spazi se non te li puoi gestire da solo, nel senso che tu, dirigente della tua scuola, col tuo personale, con i tuoi bidelli, con il tuo personale di segreteria, è molto più complicata la faccenda degli spazi. E soprattutto se si pensa nel medio termine, perché si è registrata un'inversione di tendenza. Quindi io sono arrivato qui due anni fa e le prime erano tre, oggi le prime possono essere cinque e quindi forse addirittura due prime geometri, quindi significa che da un corso geometri potremmo farne due direttamente senza articolazione, uno cat e uno legno. Quindi nel medio termine è sicuramente impensabile che ci possano essere aule da condividere. Peraltro in via Castagnola condividiamo già un piano intero con il liceo Marconi. E il problema, anche lì, via di fuga, sicurezza, responsabilità del dirigente, tenendo conto che via Castagnola, ahimè, quando è allerta arancione deve essere vuota. E quindi come facciamo a far recuperare i ragazzi? Per ora me li porto qua, li porto in via Millo, ma se poi in via Millo non ho più lo spazio, dove li metto? E se le allerte arancioni sono quattro, come faccio a raggiungere i 200 giorni previsti dalla legge? Quindi come se ne potrebbe uscire? Eh, questo è un compito, ahimè, della città metropolitana, dei politici. Detto proprio tra me e voi, ci si poteva pensare prima. In queste ore gli incontri, i dibattiti, le battute sui giornali, i comunicati stampa, non si contano più su questa vicenda. Le viene da fare una considerazione pensando ai ragazzi e alle famiglie, che mi pare che in questo momento non sia così centrale relativamente a tutto quello che sta accadendo. Ma in realtà mi sembra la storia infinita. Il problema principale che sono i ragazzi, non lo so fino a che punto, venga tenuto in considerazione. Il nostro compito, prima ancora di essere dirigenti, noi siamo professori e educatori. E la centralità del ragazzo dovrebbe essere prima di tutto, prima degli spazi, prima della scelta dell'indirizzo. E le famiglie hanno scelto, con tanta confusione, perché comunque fino all'ultimo non sapevano in quale scuola, neanche a dicembre, avrebbero potuto iscrivere i loro figli con serenità di un percorso che arrivava fino in quinta. Non sapevano se andava per il biegno, se altri biegni avrebbero cambiato un'altra istituzione scolastica. E quindi c'è stata troppa confusione in merito. La politica c'entra? Ahimè, questa è una domanda difficile, alla quale posso dire che sono quasi in pensione. Posso anche rispondere molto serenamente, anche se l'ho sempre fatto. La politica non è dentro i problemi reali della scuola. Questo è il punto dolente. Perché per istituzione fa un altro mestiere. Noi siamo dentro la scuola e la faccia ce la mettiamo. Con i nostri ragazzi e con i genitori dei nostri ragazzi. Magari, prima, sentire non solo me, ma sentire gli altri dirigenti del Tiguglio e pensare come organizzare un eventuale riorientamento, un eventuale dimensionamento delle strutture scolastiche, forse sarebbe stato opportuno. Posso anche fare un riferimento a un discorso più ampio. Come è stato creato per il Montale una scuola che ha tre indirizzi, il liceo linguistico, l'istituto tecnico e il professionale, un'idea poteva essere quella di averla nel Tiguglio, coinvolgendo magari il Memoria, il Cabotto, se parliamo solo di Chiaveri, oppure stenderlo anche al Davigo di Rapallo, al Liceti e fare una scuola con più plessi, ovviamente, con più articolazioni, magari, che ne so, di duemila alunni, ma che soddisfasse pienamente l'utenza. Grazie a tutti.